Salve, sono Gennaro Varavallo, ideatore del progetto Futura Gulmone Ivano che prevede l'implementazione e integrazione all'interno dell'amministrazione di un sistema di gestione e qualità. Oggi possiamo dire di avere un sindaco, un sindaco nuovo, siamo in attesa diciamo che vengano ufficializzate le altre cariche e nel frattempo io mi sto impegnando a dare lo start up a questa iniziativa. La prima attività che intendo intraprendere è quella di aprire la procedura per la gestione della villa comunale, una procedura che comunque coinvolgerà molti attori tra i quali i vigili piuttosto che i lavoratori socialmente utili. Sarà una procedura abbastanza articolata perché comunque dovrà tener conto e rispetto di tutte le figure, non trascurrerà nessun tipo di aspetto. La procedura poi verrà sottoposta all'attenzione del sindaco che avrà l'opportunità di integrare o successivamente approvarla totalmente. Da quel punto si può iniziare a parlare di sistema di gestione qualità, si assegneranno dei compiti, dei tempi, delle responsabilità. Attraverso quella il cittadino avrà la possibilità di determinare se è efficace la gestione e l'impegno dell'amministrazione oppure no. Grazie a tutti! Grazie a tutti!